Farà tappa a Napoli, nel quartiere del Vomero, l'iniziativa itinerante di promozione del turismo spagnolo in Italia. Dal 23 al 26 aprile, nelle principali vie dello shopping, saranno posizionati gli infopoint di Tour Espagna e si terranno spettacoli, balli e concerti tipici della penisola iberica. La Campania in generale, ma Napoli molto in particolare, è così vicina alla Spagna e abbiamo un rapporto in comune, una storia in comune così forte e così importante che adesso dobbiamo ricoverare questa storia e convincere ai napolitani, convincere ai campani di venire in Spagna in Becanze e anche a scoprire quella parte che è rimasta, che è praticamente come una seconda parte di Napoli. Diversi anche gli appuntamenti culturali ospitati nella quattro giorni dell'evento dall'Istituto Cervantes. Sono previsti incontri di musica e poesia, mostre fotografiche e proiezioni di film dedicati alla Spagna. L'arte, la cultura, la gastronomia, si tratta di scoprire non soltanto le spiagge, la parte più popolare come le isole valeriche, sono sempre molto benvenuti, ma anche le città, la città d'arte, per scoprire questa storia. La rassegna, che dal 2003 ha già toccato diverse città italiane, è organizzata dall'Ufficio Spagnolo del Turismo in Italia con il patrocinio del comune e vuole essere anche l'occasione per presentare le nuove offerte turistiche di Catalogna, Comunità Valenziana, Andalusia, Valencia, Gran Canaria e Madrid. Un quartiere della nostra città, che è il Vomero, potrà diventare qualcosa di concreto nei confronti del quale ognuno di noi si può sperimentare, divertirsi e percepire anche la nostra città in un modo più bello e più forte come parte importante dell'Europa tutta.